Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, è in corso lo sciopero del trasporto pubblico, è in programma sino alle ore 13, sono attive le metro A, B e B1, chiusa invece la metro C per bus, filobus, tram e la ferrovia Termini Centocelle, possibili riduzioni di servizio temporane, interruzioni. Sempre questa mattina manifestazione sindacale a Piazza del Popolo e corteo tra Piramide e Trastevere. Questa sera poi allo Stadio Olimpico Italia Macedonia del Nord per le qualificazioni agli europei di calcio del prossimo anno. Tutte le indicazioni per raggiungere l'area del Foritalico con il trasporto pubblico sono su romamobilità.it